Cerimonia commemorativa dell'ispettore capo della Polizia di Stato Giovanni Lizio, ucciso in un agguato mafioso il 27 luglio del 1992. Determinazione e coraggio in un momento in cui il gota mafioso decise, mediante il suo omicidio, di dirottare l'attenzione mediatica da Palermo a Catania, città fino allora non interessata dalle rappresaglie mafiose verso gli uomini dello Stato. Il sacrificio dell'ispettore Lizio è quanto mai attuale perché ripropone ancora ai giorni nostri un esempio che troppe volte è stato poco conosciuto. Dobbiamo diffondere e divulgare la memoria dell'ispettore Lizio legata a quei valori di intransigenza, a quei valori di dialogo con la società civile e a quella capacità di ascolto troppe volte venuta meno nei confronti di tutti quei soggetti sociali vulnerabili e che hanno subito la violenza mafiosa. Ricordare l'operato dell'ispettore Lizio oggi equivale a tracciare una nuova strada forte delle radici e della conoscenza del passato della lotta alla mafia.